E voi? Cosa fate nella vita? Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche, non so, hardware, cioè creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, non so, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica, non so se mi spiego. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta, cioè non è che il negozio di ferramenta è nostro, noi ci lavoriamo come commesse, come galoppine, insomma, come tizzi.